dedicare al mitico folk studio e anticipa in pieno l'ospite d'onore che ci ha onorato della sua presenza questa sera e che salerà dopo questa canzone su questo palco. La canzone racconta i mitici anni del folk studio da cui sono partiti appunto Ernesto Bassignano Francesco De Gregorio e Antonio Venditti. Questa è Roma 1970. Un concerto alle 21, c'è la locandina, tre banchi e una pedana, stasera in prima fila, sul tram non parli d'altro, un eschimo protesta, salita garibaldi, si accendono le stelle, e lei, una diana tra le labbra e pantaloni stretti, la musica in cantina, arriva fino al colle. Cosa dico adesso? Di quell'aria viva? Dentro i miei ricordi c'è una lunga piega che divide in due questa vita mia. Rivera si esibisce in piazza a festeggiare, in Messico gli azzurri ci portano in finale. E poi l'eco di Parigi si alzerà la voce, a giorni arriva il colore, e la tua e cavalli errate. In alto pini e cielo si ammantano di rame, sento anch'io di starci dentro, coi piedi e fino al collo. Cosa dico adesso? Di quell'aria viva? Dentro i miei ricordi c'è una lunga piega che divide in due questa vita mia. Via di portina e fine indiana, e ne ho il tavolo rotondo, una riunione ad occhi chiusi, per il mio grande sogno. e questa gioventù, bella come amore, mio figlio dalle nuvole, cade senza farsi male. Cosa dico adesso? Di quell'aria viva? Dentro i miei ricordi c'è una lunga piega che divide in due. questa vita mia. Cosa dico adesso? Di quell'aria viva? Dentro i miei ricordi c'è una lunga piega che divide in due. Questa vita mia. Questa vita mia.